Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle eccoci qua è uscito il capitolo no non è uscito il capitolo sono usciti gli spoiler sono uscite le raw e come sempre ragazzi ricordiamoci di ringraziare il maledettissimo raw provider perché anche questa settimana ha fatto uscire su twitter il capitolo senza un maledettissimo balloon scoperto grazie più peace grazie 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 per fortuna ci sono i siti dove fra un paio d'ore vedremo tranquillamente l'intero capitolo tranquillamente ad ogni modo ciancia le bande e iniziamo subito a parlare di questo capitolo veloce 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 iniziamo capitolo 1093 rufi versus kizaru nella copertina vediamo e kobi ed el meppo senza gli occhiali perché sono senza gli occhiali perché ci sono questi due animaletti che sembrano dei lemuri che gli hanno rubati e li stanno indossando loro quindi vediamo proprio kobi e il meppo che cercano di raggiungerli e queste due simil scimmiette con gli occhialini indosso vabbè una cover carina una cover divertente sempre meglio della cover di jimbe jimbe è sempre inutile iniziamo il capitolo comincia laddove si era concluso la scorsa settimana cioè con rufi che aveva preso kizaru come un bambolotto e lo stava tirando via dal labo phase bene riprendiamo con rufi a cavalcioni tra le mura sgretolate anzi sulle mura sgretolate del labo phase che prende in mano il bambolotto di kizaru perché fondamentalmente dentro le sue mani è un bambolotto e poi fa una roba assolutamente cartunesca cioè inizia col suo braccio a farlo roteare a velocità in mane saltando in aria e spara kizaru nell'aria così in una direzione assolutamente casuale e vediamo praticamente kizaru che parte via fuori dal labo phase così in aria perché deve volare via quindi lo toglie dalle scatole nel mentre torniamo dentro e iniziamo a vedere quella che è la reazione di quelli che sono rimasti dentro quindi atlas chopper vega punk e tutti gli altri atlas decide di voler andare al piano di sotto per andare a sostituire l'ordine che hanno ricevuto i vega punk mark 3 e i vega punk i pacifista mark 3 e vega punk decide di andare con lui con lei a quel punto parte prende il lumacofono e prende lo prende da atlas e comunica a frankie e a sanji che ha intenzione di andare al piano di sotto lilith intanto mentre sanji parla con con vega punk lilith decide di salire sul frankie shogun per spostare la sanni dove deve essere spostata mentre frankie decide di andare anche lui giù al fabrio phase assieme ad atlas e vega punk e la stessa cosa per sanji mentre jimbe davvero traditore cambia il centro e diventa vero traslocatore perché lui è dentro alla torre a che sta caricando pacchi da portare dentro alla sanni quindi vediamo jimbe traslocatore dopo jimbe traditore a quel punto a quel punto abbiamo un cambio di scena ma prima di andare avanti sul cambio di scena ragazzi vi invito a passare di là ad andare nel mio canale nel canale segnale di fumetto perché da oggi ci sarà un nuovo video che uscirà tutti mercoledì che parlerà proprio delle uscite settimanali principali delle varie case editrici quindi se volete vedere perché non vi ricordate che cosa esce sta settimana nelle varie fumetterie andate di là iscrivetevi mettete like datemi una mano gigante e aiutatemi a far crescere il canale bene a parte il momento marchetta torniamo qua andiamo avanti allora ad ogni modo trovate tutti i link sia qua sotto in descrizione che a fine video come sempre torniamo a Eged ma stavolta non siamo lassù sul labo phase ma andiamo di sotto al fabrio phase dove vediamo i marine che hanno oramai preso il controllo della parte sottostante della parte creatrice dell'isola solo che in realtà questo controllo non è esattamente reale perché in un attimo vediamo come questi marine che stanno urlando cercando una persona improvvisamente diventano bambini o diventano vecchi e decrepiti perché? perché è passata Bonnie nel cercare di nascondersi e li ha trasformati tutti o in bambini o in vecchi e lei intanto si nasconde quindi sappiamo che si è salvata ma come si è salvata? beh dopo essere detonata malissimo contro il Frontier Dome stava precipitando ma nel precipitare abbiamo Sentomaru che vede cadere praticamente Bonnie si alza, la raggiunge, la raccoglie prima che cada per terra e la salva e vediamo Sentomaru che le risponde ovviamente i balloon sono cancellati quindi non so dirvi che cosa le risponde ad ogni modo riesce a salvarla dalla raw al momento non si capisce se Bonnie è ancora adulta o se è bambina però devo dire che essendo ancora comunque in sé difficilmente si sarebbe trasformato in bambina quindi la vediamo precipitare e vediamo proprio che Sentomaru la salva un secondo dopo passato il flashback vediamo e vediamo Bonnie che si sta nascondendo mentre Sentomaru rimane a terra completamente distrutto e Bonnie praticamente è nascosta tra le macerie quelle macerie oltre il quale secondo me dovrebbe trovarsi quel famosissimo robottone di fine capitolo 1092 quindi non mi stupirei di vedere a breve il robottone in azione ad ogni modo torniamo al labo phase torniamo in aria sopra il labo phase vedendo Rufi che è lì che salta come al solito salta in aria non esplode salta in aria andiamo a terra e vediamo che Zoro e Lucci stanno combattendo entrambi uno contro l'altro Lucci è in forma risvegliata quindi lo vediamo con la sua barbetta con la fiammella la stola di fiamme nere attorno alle spalle mentre Zoro non sta combattendo seriamente perché non ha la bandana in testa ma soprattutto non sembra stare utilizzando l'Achid al Re Conquistatore anche se bisogna dire una cosa quando l'Achid lo sta utilizzando di sicuro perché le spade sono nere c'è qualche fulminello nero ma le spade stanno facendo uscire dalla punta delle fiammelle quindi potrebbe anche darsi che lo stile di combattimento che sta utilizzando Zoro è esattamente lo stile di combattimento usato alla fine dello scontro con King quando inizia a tirare gli ultimi fendenti che poi lo distruggono quindi potrebbe anche darsi che stia combattendo con l'Achi del Re Conquistatore e che quelle fiammelle verdi che si vedono intorno alla spada o alla punta della spada siano proprio l'estensione l'immagine la dimostrazione per gli spadaccini dell'utilizzo dell'Achi del Re Conquistatore non mi stupirebbe questa cosa anche perché le spade sono già nere i fulmini ci sono quindi magari Oda vuole far vedere qualcosa di diverso proprio per gli spadaccini e chi utilizzarmi è una mia illazione potrebbe non essere così lo scopriremo lo vedremo ad ogni modo i due continuano a combattere con Zoro che imbruttisce ovviamente Luci come dire per uno come te cioè tu sei convinto di ucciderci ma basta io cioè non basta non servono altre persone e Luci dice beh ho sempre voluto assaltare attaccare e ammazzare il secondo di un imperatore quindi non sarebbe male ammazzare il secondo di un imperatore le solite schermaglie senza arte ne parte mettiamola così ad ogni modo dopo questa schermaglia tra i due torniamo fuori dall'isola laddove chilometri chilometri a distanza vediamo Kizaru che sta volando sparato da Rufy diretto verso il mare proprio pienamente al mare e proprio ci sta volando con le braccia concerte quando a un certo punto si gira si accorge che sta per cadere in mare e con un volto assolutamente impassibile e le mani le mani concerte le braccia concerte semplicemente si gira e riprende il volo per poi tornare su e una volta rimasto a mezz'aria lancia utilizzandolo Yasakani no Magatama tutta una serie di raggi di luce in cui lui si inserisce e torna in un nanosecondo dentro al Punk Records dentro al Lavo Phase e vediamo che questi raggi queste sorte di sfere luminose iniziano ad arrivare là dove c'è Rufy e Rufy guarda proprio perché è quasi abbagliato da queste luci e nel momento in cui rimane abbagliato da queste miriadi di luci compaiono una miriade di cloni di Kizaru quindi solo in questa tavola ne conto più di una decina e tutti quanti compiono gli stessi movimenti cioè attivano l'Amano Murakumo quindi la spada di luce e provano ad attaccare Rufy ma Rufy stesso utilizza attacchi a base di Aki grandi calcioni a base di Aki per colpire proprio questi questi cloni alcuni spariscono altri invece no ma ad ogni modo si mettono tutti uno in fila all'altro e si muovono proprio per andare a colpire Rufy che di risposta attacca con un colpo che si chiama Gom Gom No Don Stamp che è praticamente un calcione con la gamba akizzata che trapassa tutta la fila di di Kizaru di cloni di Kizaru il problema è che nel momento in cui Rufy colpisce questi cloni questi cloni spariscono ma spariscono perché il vero Kizaru non è lì il vero Kizaru è tornato di sotto al labo phase sta cercando Vegapunk il problema è che Vegapunk non c'è e quindi cosa fa prende per il collo Usop mentre Nami e Brook sono pronti con le armi sguainate per attaccare Kizaru quindi Brook con la lama puntata verso Kizaru e Nami pronta con il il suo climatact sguainato con un fulmine che si sta avvicinando proprio alla sommità del climatact a quel punto Rufy si rende conto che loro sono in pericolo ed è pronto ad agire quando esattamente alle sue spalle sente un vetro che si rompe un suono di esplosione e vediamo Atlas e Vegapunk dentro il Vegatank che è praticamente questa sfera con due ruote gigantesche è una biglia praticamente le classiche biglie con cui si giocava da da bambini sulle spiagge con due ruote di carro gigantesche grandi più della bigliona stessa dove all'interno ci sono Atlas nel sedile di dietro e Vegapunk al comando mentre Sanji è appeso alla bolla stringendola proprio con tutta la forza che ha e lui è là fuori che cerca di entrare dentro Vegapunk parte a tutta velocità per andare al Fabrio Phase e Kizaru se ne rende conto e si prepara a lanciare un laserone proprio verso lo scienziato quando Rufy se ne accorge e si piazza esattamente davanti al al laser e viene colpito in pieno ma il fatto che venga colpito in pieno dal laser crea un effetto molto strano perché Rufy inizia a brillare più del normale si vede che la sua bocca emana luce i suoi occhi emanano luce e tutto lui stesso emana ancora più luminosità non mi stupirei che in versione cartunesca la divinità del sole cioè il Nika possa avere qualche potenzialità o qualche potenziamento legato proprio alla luce non mi stupirei ad ogni modo mentre il trio sul Vegatank continua a scendere vediamo che Sanji è entrato nella bolla ma al suo posto fuori c'è Franky che è appeso proprio stretto con le mani per riuscire a entrare mentre Lilith è lì che sta salendo sul Franky Shogun per spostare la nave a quel punto vediamo che il Vegatank esce dalle nuvole scende di sotto è a mezz'aria che sta scendendo sulle nuvole sul fumo che viene generato dal Fabrio Phase e vediamo Atlas che urla al chip di comando e dà un ordine ai pacifista Mark 3 e nel mentre dà l'ordine vediamo la faccia di Saturn con non si capisce se gli occhi sono chiusi o se sta guardando verso il basso e probabilmente l'ordine di parte di Atlas ai pacifista Mark 3 di smettere di attaccare le CB2 e attaccare invece le navi della marina oppure di eliminare la marina dall'interno dell'isola non lo sappiamo dipenderà tutto da quello che c'è scritto in quei balloon al momento non si sa ad ogni modo finito il capitolo la prossima settimana c'è pausa quindi noi ci ritroveremo con gli spoiler ai primi di ottobre nel Shonen Jump volume 45 detto questo ragazzi se vi è piaciuto il video pollicione in alto se non vi è piaciuto pollicione in basso voglio sapere voi cosa ne pensate di questo capitolo lasciamo perdere le pause ormai ormai fanno folklore parliamo del capitolo parliamo di quello che succede di quello che non succede ragazzi scatenatevi qua sotto ma con educazione ok detto questo noi poi ci vediamo stasera su twitch dove faremo la nostra solita live spoiler con il buon cenere che è completamente in blind e tutti gli altri e anche le frasi i commenti e le domande da voi del pubblico a stasera ciao belli qua ci scappa il morto qua sailor saturn ci saluta malamente ci saluta proprio male 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 sailor saturn ciao 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 guerriera sailor della scienza e della tecnica ciao ciao